Allora, ciao ragazzo, allora potete sapere che oggi arrivo a scuola a Valentino e trovo Marta vestita nel mio stesso modo Nel mio stesso modo, perché non vorrei dire che il pantalone me lo ce l'ho comprato prima, io ovvio La maglia l'ho comprata prima, io, io lo compro La maglia l'abbiamo comprata No, 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 io ho detto ce l'ho compiata No, 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 io ho detto ce l'ho compiata Stavozione a voi stamattina Giulio non lo so, i pelo sei un futuro W La paglia sarebbe a guarda Ovviamente Yes Invece, in Theory Ma io salvoı practicing Colmata ga ja ahahah l'olio l'olio che scollo ha le vostre vecchie quei giochi i giochi ho giusto dagli erboli io lo mando